Cartier Tank, un'icona dell'alta orologeria. L'orologio Tank di Cartier ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'orologeria e della moda sin dalla sua creazione nel 1917. Nel corso di oltre un secolo, è diventato un'icona intramontabile di stile e raffinatezza. La sua storia affonda le radici nella Prima Guerra Mondiale, quando Louis Cartier, figlio del fondatore della Maison Louis-François Cartier, fu ispirato dalle auto blindo, utilizzate in guerra. Da questa ispirazione nacque il design rivoluzionario del quadrante rettangolare, che rappresenta le due bande larghe che circondano il quadrante, simboleggiando i cingoli dei carri armati visti dall'alto. Questo modello innovativo segnò un cambiamento epocale nell'orologeria. All'epoca, la maggior parte degli orologi da polso era rotonda e principalmente indossata da donne. Il Tank, invece, fu creato per essere indossato sia da uomini che da donne. Era più leggero rispetto ai modelli precedenti, presentava un'espressione snella e dettagli blu, come lancette e uno zaffiro sintetico, che lo facevano risaltare nell'era dell'art déco. La longevità e la popolarità del Tank possono essere attribuite a una serie di personalità di spicco che hanno reso famoso il modello. Jackie Kennedy, celebre icona di stile, fu una di queste figure di spicco. Negli anni 70, Cartier ha modernizzato il design del Tank e ha introdotto il Tank Must, alimentato a batteria. Questa mossa ha catturato il pubblico degli anni disco, che ha visto nell'orologio un accessorio altamente desiderabile. Oltre a Jackie Kennedy, il Tank ha anche adornato i polsi di celebrità come Lady Diana. Ciò che rende il Tank così attraente è la sua capacità di equilibrare il design moderno con l'eleganza classica. Le diverse collezioni, come il Tank Chinoise, ispirato all'architettura cinese, il Tank Frances con il suo cinturino a maglie e il Tank American dal design più incurvato, continuano a incantare gli amanti dell'orologeria di lusso. Con l'uso di metalli preziosi, diamanti e cinturini in pelle colorata, Cartier ha costantemente rinnovato il suo appeal, mantenendo viva la tradizione di Louis Cartier. In conclusione, il Tank di Cartier rappresenta non solo un orologio ma una vera e propria icona di stile e raffinatezza. La sua storia affonda le radici nella Prima Guerra Mondiale, ma la sua eleganza senza tempo continua a catturare il cuore di uomini e donne di tutto il mondo. Il Tank è molto più di un orologio, è una dichiarazione di classe e gusto, una rappresentazione della tradizione orologera unita all'innovazione. Con oltre un secolo di storia, il Tank è destinato a rimanere un'icona nell'universo degli orologi da polso. La sua versatilità, il suo design senza tempo e il suo appeal intramontabile lo rendono un investimento intelligente per gli amanti degli orologi di qualità e di stile. Indossare un Tank è come indossare un pezzo di storia e una dichiarazione di eleganza che non passerà mai di moda. Un'opera d'arte che resiste al passare del tempo, proprio come il suo iconico quadrante rettangolare. Il Tank di Cartier, è, e rimarrà per sempre, un simbolo di classe e raffinatezza che incanta chiunque abbia il privilegio di indossarlo.